Tutti conosciamo Paolo Borsellino, giudice eroe. Chi era Paolo Borsellino Persona? Beh, innanzitutto era un uomo di grande umiltà, che non faceva mai pensare nei suoi interlocutori la sua autorità e la sua autorevolezza. In secondo luogo era un uomo di grande addirittura morale, intransigenza anche morale, aveva dei valori di riferimento e su questi era molto fermo e intransigente. Poi era però un uomo aperto al dialogo, bravo ad ascoltare, bravo moltissimo anche a raccontare, perché era un gran conversatore e in questo modo coinvolgeva gli altri. Per questo amava circondarsi di giovani magistrati rispetto ai quali è stato un maestro per un'intera generazione. Qual è il ricordo di Paolo Borsellino che porta più caro con sé? Beh, quello certamente più caro è quello del Paolo Borsellino degli anni di Marsala. Lui era il procuratore capo, io sostituto a Marsala, gli inizia la mia carriera il Paolo Borsellino che sapeva scherzare, sapeva anche raccontare che sono una barzelletta in dialetto siciliano, ma poi inframezzava queste cose con i racconti dei momenti più duri, più difficili, dell'impegno del maxiprocesso. Un altro ricordo ovviamente indimenticabile, un po' più pesante, è il secondo Paolo Borsellino, diciamo così. Il Paolo Borsellino invece di Palermo, il Paolo Borsellino dopo la strage di Capaci, dopo la morte del suo amico e collega Giovanni Falcone, che è un uomo che non sapeva più sorridere, era un uomo però che nonostante fosse piegato dal dolore, aveva trovato l'energia e la forza per continuare per la stessa strada. Che cosa insegna la storia di Paolo Borsellino? Beh, insegna, deve insegnare che gli uomini anche più straordinari, più forti, anche i fuori classe hanno bisogno però di un sostegno. Quando rimangono soli, quando rimangono isolati, purtroppo finiscono per essere colpiti dai poteri forti, dai poteri criminali. E Borsellino aveva dietro di sé, quando venne ucciso, un gruppo di giovani, un pezzo di società, ma era, ciononostante, abbastanza isolato dentro le istituzioni, dentro il paese. E questo ne determinò quella sovraesposizione che poi lo ha condannato a morte. Che aria si respirava nell'Italia di allora? Beh, si respirava un'aria pesante, perché i poteri mafiosi avevano una forte capacità di incidenza. C'era anche però un'aria di voglia di riscatto, l'indignazione degli italiani onesti, e quelli che siano ribellati perfino contro lo Stato, le autorità, che dopo la morte di Falcone, il funerale di Falcone e il funerale di Borsellino. E la gente che voleva reagire contro uno Stato che aveva lasciato soli i suoi servitori più importanti e più fedeli. E oggi che aria si respira? Beh, oggi si respira un'aria, credo complessivamente migliore di quella di allora, perché è più ampio l'arco della società, soprattutto nei giovani, che ha visto in Uomini come Falcone e Borsellino, molti giovani che magari non erano neanche nati a quel tempo, ma che continuano a vedere in Uomini come Falcone e Borsellino i modelli di riferimento e perciò si è creato un ampio movimento nell'Italia che vuole più verità, più giustizia, più legalità e chiede di partecipare. C'è una grande voglia di partecipazione alla vita pubblica e quindi c'è questo forte desiderio di cambiamento. C'era anche negli anni 90, subito dopo le stragi, e quella voglia di cambiamento non ha prodotto i frutti voluti e mi auguro che questa nuova stagione sia migliore nei suoi risultati di quella degli anni 90. Che differenza c'è tra la mafia che combattevate allora e la mafia di oggi? Beh, la mafia di allora è una mafia con la quale sentivi il corpo a corpo, direi quasi sentivi l'odore dell'assassino mafioso che trovavi di fronte e che rispetto al quale c'era lo sconto del muro contro muro. La mafia di oggi, da un lato, dal punto di vista militare, è stata certamente ridimensionata e meno pericolosa, però è diventata molto più insidiosa dal punto di vista delle capacità di condizionamento complessive. La mafia oggi ha sovuto potere finanziario con grande capacità di condizionamento sulla politica e questo naturalmente rischia di restringere gli spazi di libertà di tutti i nomi. Indagando per vicende di mafia si arriva sempre alla politica, sin dall'omicidio notarbartolo fino alla trattativa dei nostri giorni. Chi ha ucciso Borsellino, la mafia o la politica? Beh, un po' l'uno e un po' l'altro, anche perché non esiste mafia senza politica. Spero che esista un domani una politica senza mafia. Fino ad oggi in realtà c'è stato un binomio, mafia e politica, politica mafia. E allora Borsellino è stato ucciso materialmente, certamente da mano mafiosa, ma la politica ebbe un suo ruolo in quel clima di isolamento e di resposizione che colpisce inevitabilmente ogni uomo, anche dello Stato, non solo gli uomini dello Stato, ma soprattutto gli uomini dello Stato che vanno avanti per la loro strada senza guardare in faccia a nessuno, applicando il principio delle coeglianze di tutti i cittadini di fronte alla legge, non tenendo conto di trattamenti privilegiati, addirittura di pretese di impunità che spesso hanno avuto i potenti di ogni stagione, i tempi di Falcone e Borsellino e i tempi di oggi. Falcone e Borsellino sono stati ignobilmente assassinati. Il frutto del loro lavoro è morto con loro? No, direi di no. Il frutto del loro lavoro è proseguito e c'è una generazione di allievi di Falcone e Borsellino che potremmo dire si sono un po' impadroniti di molti palazzi di giustizia. C'è stata un po' la presa del potere degli eredi di Falcone e Borsellino. Falcone e Borsellino erano molto più isolati di quanto non siamo noi. Noi in questo siamo un po' più privilegiati rispetto a loro. È stato anche in virtù del loro sacrificio che c'è stata anche una rivoluzione, potremmo dire, culturale dentro la magistratura. Però c'è una parte del patrimonio lasciato da Borsellino e da Falcone che secondo me non è stato sufficientemente utilizzato dal Paese. È quel patrimonio morale, di valore, di impegno etico, di quell'intransigenza morale che per carità in alcuni settori della magistratura e della società italiana sono stati coltivati e utilizzati, ma c'è una grande parte del Paese che in questi ultimi anni l'ha proprio dimenticato. Allora è come un tesoro adagiato sul fondo del mare, dell'oceano, del nostro Paese. Bisogna un po' tirare su questo tesoro, portarlo alla luce e valorizzarlo. Quanto manca alla verità? C'è un bel tratto di strada. Si sono trascorsi vent'anni da quella stagione e addirittura ci siamo resi conto dopo quasi vent'anni che c'era stata addirittura una verità giudiziaria in sentenze definitive che era una verità in parte fasulla, frutto di depistaggi. E si è ricominciato a ricostruire un'altra verità più aderente alla verità vera, alla verità reale. La Procura di Caltanissetta è impegnata su questo fronte, la Procura di Palermo per la sua parte, per l'indagine sulla trattativa che secondo i colleghi di Caltanissetta è strettamente collegata con la strategia di Via D'Amelio. Io direi che sono emersi negli ultimi anni pezzi di verità molto importanti, più di quanto non si fosse riuscito a fare fino ad oggi, però c'è ancora tanta strada da fare e non dipende solo dalla magistratura, dipende dalla politica, dipende dai cittadini, bisogna creare le condizioni. Quando la verità è difficile, la verità è conquista collettiva, ognuno deve fare la sua parte. Se un ragazzo nato dopo il 92 le chiedesse che cos'è la trattativa, come glielo direbbe? Direi che il ripetersi di una vecchia storia, di uno Stato che ogni volta che si è trovato in guerra con la mafia, ha fatto la guerra per qualche anno per cercare poi di dirlo alle quinte, subito una pace, una tregua attraverso la trattativa. Ed è quello che, lo dicono ormai anche sentenze definitive, da qualche anno, di tribunali, corti d'assise, di Firenze, di Caltanissette, quella trattativa che fu anche negli anni 90, quando lo Stato, quasi in ginocchio, sotto i colpi dello stregismo mafioso, cercò un accordo con la mafia e pensando forse, facendo male i calcoli, pensando di poter fermare lo stregismo. Invece, come molti giudici hanno scritto in alcune sentenze, quella trattativa è stata un effetto acceleratore delle stragi, perché i mafiosi pensarono che allora quel metodo pagava, era pagante, quindi bisognava ancora più alzare il prezzo facendo altre stragi. Ci sono rischi per la chiusura delle indagini? No, io credo che non ci sono rischi, non c'è stata nessuna interferenza diretta sulle indagini, le indagini sono arrivate a completamento, si farà un processo, io mi auguro che ci sia attorno a queste indagini, a questo processo, se ci sarà appunto un processo davanti al giudice, per carità è giusta la critica, la libertà di opinione, ma che ci sia un clima sereno, perché nuoce alla serenità della magistratura che si creino scontri e conflitti. Vent'anni dopo, secondo lei, si è riuscito a tenere vivo l'insegnamento di Paolo Borsellino? Beh, io credo di sì, per merito di tanti italiani, magistrati, familiari, l'associazionismo, tanti insegnanti che operano nelle scuole, molti giovani, però non si è valorizzato sino in fondo, bisogna fare e si può fare di più. Qual è il miglior modo per ricordare Paolo Borsellino il 19 luglio? Innanzitutto ricordare la sua figura, non come un santino, ma come un uomo, un uomo certo coraggioso, come pochi, ma un uomo, e soprattutto impegnarsi quotidianamente, guardando in Borsellino come modello di riferimento, come cittadino attivo che credeva nei valori della Costituzione. Grazie.